l'all of body mouse di light target è ormai il topo più famoso presente sul mercato disponibile in tre misure 60 70 e 90 mm per 3 ottavi mezz'oncia e un'oncia di peso è ideale per i medi e grossi predatori l'all of body garantisce una ferrata perfetta grazie alla compressione della plastica te lo compone che permette ai due ami di ferrare perfettamente la bocca del pesce il movimento di quest'esca è walking the dog il movimento anche durante recuperi ad alta velocità rimane perfetto e il walking the dog rimane montato la coda in silicone posizionata posteriormente aumenta la capacità attrattiva di questa esca un top water perfetto per pescare tutti i predatori che si cibano nello stato superficiale dell'acqua grazie a tutti